Una terribile emergenza, peraltro anche a macchia di leopardo che ha colpito più località del Veneto. Annuncio già che ho già dichiarato lo stato di crisi, quindi avviata la procedura, uno stato di crisi ovviamente aperto nella lista dei comuni perché poi attendiamo di raccogliere ancora ulteriori indicazioni e di completare la lista come si fa al solito nel giro di un paio di settimane.